Siamo di nuovo su CultFriendTV, il canale YouTube di CultFrame Artivisive. Questa volta voglio parlarvi di un piccolo grande film italiano. Di solito non lo faccio perché il cinema italiano negli ultimi anni è diventato conformistico e assolutamente prevedibile. Quindi raramente mi occupo di film italiani dedicando spazio appunto su CultFriendTV. Eppure questa volta un piccolo grande film mi ha colpito. È un piccolo grande film in programmazione nel cartellone del Torino Film Festival. Vi dico subito il titolo. È semplicemente Pino, il regista è Walter Fasano. Ed è un film dedicato alla figura di un grande artista italiano morto ormai moltissimi anni fa, nel 1968, Pino Pascali. Perché mi ha colpito questo film? Perché è un film anticonvenzionale. Dovrebbe essere un documentario ma di fatto non lo è. È un film con una vena poetica molto evidente. Ha una durata assolutamente commisurata proprio al tono del film. È un piccolo poema espressivo. Ed è estremamente interessante che ci sia stato proprio oggi, nel 2020, un film dedicato proprio alla figura di Pino Pascali. Un artista che certamente gli ha detto i lavori del mondo dell'arte contemporanea. Gli esperti dell'arte del Novecento ricordano e conoscono. Ma in generale è un artista dimenticato per le masse, di cui nessuno parla. Allora, perché è un film importante, Pino? È un film importante perché si tira fuori da, diciamo così, tutto il birignano prevedibile, scontato, abbastanza sterile, conformista del cinema italiano di oggi. E si manifesta come una sorta di piccola apparizione. Apparizione appunto di un piccolo gioiello espressivo, il cui intento poetico è quello di riportare alla luce la figura di Pino Pascali attraverso un meccanismo non banalmente documentaristico. sarebbe stato di una noia mortale una biografia documentaria di Pino Pascali, ma attraverso uno spirito espressivo, narrativo, estetico, linguistico, assolutamente paragonabile a quella che era la vena artistica, espressiva e anche umana di Pino Pascali. Pino Pascali è stato un artista anticonvenzionale, che è andato contro tantissime regole, che almeno inizialmente è anche faticato per certi versi, anche se poi ha trovato dei galleristi di riferimento che l'hanno molto sostenuto, comunque è faticato all'inizio anche a far accettare sue mostre che poi sono diventate importantissime e famosissime. Ebbene, Walter Fasano, con questo suo film, ha colto alla perfezione lo spirito anticonvenzionale di Pino Pascali, questo, come possiamo definirlo, scultore non conformista, questo costruttore anche di performance, questo individuo che era anche capace attraverso il proprio corpo, il proprio, come possiamo dire, la propria presenza, di comunicare qualcosa che negli anni Sessanta era assolutamente innovativo. Ho parlato di mostre che Pino Pascali ha faticato a far accettare, quella famosissima sulla costruzione delle armi, cannoni, missili, che lui aveva realizzato nel cortile del suo palazzo a Roma, che poi non erano armi perché erano totalmente finte, eppure nella loro finzione erano assolutamente realistiche. Come qualcuno ha detto, in Pino Pascali la finzione è più reale della realtà, e questo già è un elemento significativo, per ricordare questo grandissimo artista, che comunque ha segnato un'epoca anche dal punto di vista del rapporto con la società, perché Pino Pascali fu uno di quegli artisti che affrontò per esempio le proteste studentesche durante la Biennale nel 1968, che mise il suo corpo, la sua faccia pubblicamente, per far capire come la Biennale si dovesse svolgere ugualmente, anche se poi pare che la sua sala comunque fu lo stesso, chiusa in seguito alle proteste. Comunque, a parte questi aspetti più storicistici, diciamo subito che il film di Vartel Fasano è, come ho già detto, forse un piccolo poema visuale sulle orme di Pino Pascali, e come chiaramente è scritto nelle note di regia, ci sono due punti di riferimento inequivocabili, da una parte Chris Marker, dall'altra Anna René, e questo certamente, come dire, non rappresenta una novità dal punto di vista estetico, linguistico, nel cinema di oggi, nel cinema documentario, ma fa sì che questo film, Pino, si tiri fuori appunto da questo, come l'ho definito prima, birignao conformistico, come dire, abbastanza sterile, ripetitivo, ecco, della cinematografia italiana di oggi. Ne esce fuori un ritratto di Pino Pascali eccezionale, attraverso anche le voci fuori campo di Susan Vega, Alma Jodorowsky, la nipote del grande regista Jodorowsky, Monica Guerritore e Michele Riondino, e soprattutto attraverso l'uso di fotografie. Attenzione, l'uso di fotografie dello stesso Pino Pascali, che utilizzava molto la macchina fotografica ed era perfettamente consapevole negli anni Sessanta già della potenza comunicativa della fotografia. Ecco perché, per esempio, molte sue performance, molte sue allestimenti di mostra sono documentate fotograficamente, ma ci sono anche immagini, appaiono immagini di fotografi che hanno lavorato anche nel presente. Peniferisco, per esempio, a Pino Musi, a Elisabetta Catalano, a Ugo Mulas e a Claudia Bate. Ecco, è Pino e di Walter Fasano, è una specie di percorso, ostacoli, aggrovigliato, che fa emergere la memoria di questo grande parascultore, di questo grande creatore di enormi apparati di finzione artificiali che alludevano la realtà in una maniera più forte della realtà stessa, e attraverso le fotografie, appunto, di questi autori si costruisce un mosaico visuale, espressivo, per certi versi anche drammaturgico, certamente intellettuale, di una figura centrale nell'arte del Novecento italiano, ma non solo, io direi, nell'arte del Novecento europeo. E dunque che cosa emerge fuori, e lo ripeto per l'ennesima volta di Pino Pascali, la sua diversità, il suo coraggio, l'inevitabile forza della sua poetica artistica, la capacità di creazione di elementi innovativi, la sua capacità anche di mutare il concetto di scultura, stiamo parlando degli anni Sessanta. era un artista, a mio avviso, rivoluzionario, e Walter Fasano, con il suo film Pino, lo mette in evidenza in una maniera molto precisa. Quindi vi inviterei a vedere questo film, che è fruibile online, Pino, di Walter Fasano, il Torino Film Festival. Vi voglio lasciare con una breve frase di Pino Pascali, una frase che a me ha sempre molto colpito, che prendo da questo catalogo di questa mostra di Pino Pascali, che c'è stata nel 2004 a Napoli, un catalogo bellissimo, dove peraltro sono presenti anche le immagini di Pino Pascali. La frase con cui voglio lasciare è questa, allora, ed è una frase appunto di Pascali, l'arte è trovare un sistema per cambiare, come l'uomo che ha inventato la scodella per la prima volta. Così nasce la civiltà, dalla voglia di cambiare. Dopo la prima volta, fare la scodella è accademia. Ecco, mi è sempre colpito di questa frase il riferimento a questo oggetto così povero, la scodella di Pino Pascali, che ci fa capire quanto fosse anche radicato nella realtà, nel suo mondo, anche nel meridione, era un artista pugliese, originario di Polignano a mare. Ma a parte questa questione, mi ha sempre colpito l'inizio, l'arte è trovare un sistema per cambiare. Ricordatevi questo aspetto, l'arte è trovare un sistema per cambiare, per arte intendiamo arte contemporanea, fotografia contemporanea, cinema. Chi cambia in questo periodo? Chi cambia? Quasi nessuno. E quando poi alla fine Pino Pascali dice dopo la prima volta, fare la scodella è accademia, è una frase sacrosanta, valida ancora oggi. Io, ormai da tempo, nel cinema non ne parliamo, nella fotografia non ne parliamo, non faccio altro che trovare accademie, paraccademie, pseudoaccademie, filoaccademie, e in tutto questo la creazione artistica dove sta? Il cambiamento del sistema dove sta? L'evoluzione delle forme espressive visuali dove stanno? Da nessuna parte probabilmente, se non in qualche raro luogo che ogni volta bisogna andare a rintracciare in una maniera molto approfondita. Pino, un film di Walter Fasano, Torino Film Festival. E i prossimi video di CatfrenTV.